Perchè non mi ascoltate? Siamo tutti in pericolo! Molte voci giungono da Tebe! Gli dèi sono adirati! Storie di orrori inimmaginabili! Preannunciati da una luce divina dorata! Una luce divina dorata? Sulla via per Tebe! Sarà meglio indagare su questi orrori! Avanti, egiziani! Dobbiamo raddoppiare i tributi a Osiride e Iside! A Horus e Athor! A Dapopi e a Geb! Dobbiamo venerare Amon-Ra in ogni momento del giorno! Venite! Avvicinatevi! Ascoltatemi! È cambiato qualcosa dalla mia ultima visita Nella luce che ho visto a Siwa Odora di morte! Odora di morte! I morti sono tornati! I morti sono tornati! Trata al luce dei tanti! Oh! 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 Uno spirito oscuro ha destato questi soldati. Sto sognando. 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 Grazie. Grazie. Wow. Il vento. C'è una tempesta. C'è una tempesta. Il vento. Oh 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 Montagne di sabbia Ecco il cammello Che stanno facendo? 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 Oh, povero animale Ci siamo Da cosa sono posseduto? Che stanno facendo? 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 Devo riportarlo al suo posto e mettere fine all'incubo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il piede a fiore! Marco! Il piede a fiore! Oh 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 Wow Oh 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 Sì. Ho recuperato l'oggetto! Che fine ha fatto? Dove sei? Deve esserci qualcosa qui dietro. Ora ti riporto al tuo posto. Sì. Ancora quei mostri. Sì. 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 Dove mi trovo? Ti sei svegliato. Ti abbiamo trovato mentre vagavi nel deserto. Dov'è l'avventuriero? È l'oggetto? C'eri soltanto tu. Blateravi di un'armata perduta. Ho lottato contro soldati tornati dalla Duat. Speriamo che fosse solo uno scherzo del caldo. Quelle dicerie di Tebe spaventano tutti. E prego Osiride che siano solo voci. Devi ringraziare la tua aria. I nomadi. L'hanno vista volare sopra di te. È una buona amica. Dimmi di più su quelle dicerie di Tebe. Sono troppo assurde per essere vere. Saranno solo fantasie. Ma di certo non andrò a verificarle. Hai? Chi ha fatto questa? Hai? Grazie per la visione!